Federazione Italiana Gioco Calci, campionato allievi, si incontrano Unione Sportiva Settiglianese, Scandicci Calci, dirige l'incontro il signor Italo Balano di Firenze, formazioni Scandicci Calci, numero due, Lampignano, numero due, Tencioni, numero tre, Fratelli, numero quattro, Bocci, numero cinque, Paettini, numero sei, Quiri, numero sette, Ristori, numero otto, Silvestri, numero nove, Tonaglioni, numero dieci, Gori, numero undici, Torrini, a disposizione del signor Andrea Pratesi, numero dodici, Pettinati, numero tredici, Chiani, numero quattordici, Sponza, numero quindici, Ballerini, numero sedici, Centipiani, numero diciassette, Bandinelli, numero diciotto, Conquetti. Unione Sportiva Settiglianese, numero uno, Bartelluzzi, numero due, Porri, numero tre, Ricci, numero quattro, Schiavone, numero cinque, Bandini, numero sei, Viciani, numero sette, Chiappe, numero otto, Bourezza, numero nove, Massa, numero dieci, Spinello, numero undici, Bandini, a disposizione del signor Arezio Donati, numero dodici, Gianni, numero tredici, Marcacci, numero quattordici, Pini, numero quindici, Saccai, si dice l'incontro il signor Italo Palano di Firenze. Settiglianese, vicesse, grazie! Grazie!